A differenza della mediazione considerata come macro categoria che fa prevalentemente riferimento all'oralità, ma anche ad un ampio universo testuale, tra cui anche il linguaggio non verbale, la traduzione e l'interpretazione invece si concentrano sui testi scritti e orali. Nel corso di studi L11 in plurilinguismo, traduzione e interpretazione avrete modo di confrontarvi con i testi scritti e orali, anche con il supporto di laboratori di traduzione, dove potrete migliorare e professionare diverse tecniche e strategie.